Penso che la gioia sia lo stesso, però chiaramente essendo romano posso sentire un pizzico in più, ma nient'altro, perché anche se sono romano sono stato sei anni fuori da Roma e quindi ho girato e ormai ho assunto un'altra mentalità, però chiaramente essendo romano c'è sempre un po' di cuore in più. I tifosi vogliono lo scudetto anche 83-84? Ai tifosi posso solamente dire di stare calmi, questo che abbiamo raggiunto è un grande traguardo, quindi non bisogna montarsi la testa e rimanere con i piedi per terra, non dimentichiamoci che Roma ha vinto il secondo scudetto dopo 41 anni.